...e non sono testabile come quelle quando eravamo in tonno... ...sì, il 37 SMH, viva bici lì! Oh mamma mia! Mi hai raccoltato del fantastico, eh? Ma in internet si trovano delle foto... ...per avere un'idea dei circuiti... ...e poi mi dirai per il puntamento, perché penso che sono delle parabole... ...che sono le uniche, diciamo, sono le antenne possibili, no? Quindi il radiatore e la parabola. Il puntamento viene fatto a livello ottico con i cannocchiali... ...perciò credo che il lavoro di radiazione sia delle frazioni di grado... ...con un po' come accade con la... ...con la luce... ...con la... ...piccola... ...ehm... ...ditta che vende telescopi in interesse di astronomia, quindi... ...da quando ero giovane... ...e quindi... ...c'è qualcosa in comune, eh? ...ehm... 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 ...ehm...